La Zamboni Transervice, leader nazionale nei servizi di trasporto e logistica di frutta e verdura, inaugura il nuovo magazzino refrigerato di circa 2000 metri quadrati, che si aggiunge all'attuale struttura di 4000 metri quadrati, un allargamento motivato dalla crescita dell'azienda che nel 2015 ha chiuso con un aumento del giro d'affari del 9,5%. Perché scegliere Zamboni Transervice? Beh, sicuramente per la puntualità nelle consegne, nella serietà e l'organizzazione che non pecca. Perché è un'azienda molto seria, affidabile, sono 15 anni che lavoro con loro e questi sono i risultati della loro serietà. Io nonno, suo padre e mio amico, sono bravi ragazzi, molto loro, ci danno da fare e ce la faranno. Perché è il numero uno, vent'anni di garanzia, non si sbaglia pochissime volte, numero uno, penso che basti e avanzi. Un'importante realtà veronese, nata da Lino Zamboni e gestita oggi dai fratelli Aurelio e Luca, che seguendo le orme del padre hanno permesso ai produttori agricoli veronesi di vedere arrivare quotidianamente la propria frutta e verdura in perfette condizioni nei mercati ortofrutticoli italiani. Siamo molto soddisfatti di aver creato questa nuova realtà. Abbiamo ampliato la superficie per il carico a scarico, abbiamo fatto in maniera che tutti i prodotti possano essere refrigerati sempre e che sia rispettata la catenata del freddo in tutti i processi delle nostre lavorazioni. Quanta soddisfazione questa sera? Tantissima, ringrazio tutti i nostri ospiti, vedo che sono diventati tanti, sono tanti e tanto da pagare ma è una battuta. A posto! In via Ciringhelli 22 a Vigasio, Zamboni Transervice, la freschezza affidata a Mani Sicure. In via Ciringhelli 22 a Vigasio, la freschezza affidata a Mani Sicure, la freschezza affidata a Mani Sicure, la freschezza affidata a Mani Sicure, la freschezza affidata a Mani Sicure. In via Ciringhelli 22 a Vigasio, la freschezza affidata a Mani Sicure, la freschezza affidata a Mani Sicure, la freschezza affidata a Mani Sicure, la freschezza affidata a Mani Sicure.